Permettetemi un ultimissimo pensiero. Mentre distribuivo la comunione pensavo sto facendo la cosa più bella e più importante per questi miei ragazzi e per questi miei giovani perché sto dando loro Gesù. Io ragazzi e ragazze non desidero e non voglio darvi altro se non Gesù perché nulla è meglio di Gesù e voi ragazzi e ragazze a me ai miei sacerdoti chiedete Gesù. Altre cose le potete ricevere altrove ma Gesù no da noi e nulla è meglio di Gesù è il dono più grande che possiamo farvi chiedetecelo ma noi desideriamo donarvelo con tutto il nostro cuore.